Oggi, senta, oggi facciamo degli pseudo-spaghetti, la nostra zucca sta piangendo, abbiamo tagliato, l'eseperita, queste sono le sostanze, è come se fosse la cucina vegetale. Non è prega di crudeltà, sai cosa fanno i migliori per avviare questo problema, prego, e chiedono scusa. Perdon, perdono, 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 Perdon, perdono, perdono, perdono. Perdon, perdono, perdono. Perdon, perdono, 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 perdono. Perdon, perdono, 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 perdono. Perdon, perdono, 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 perdono. Perdon, perdono, 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 perd Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non c'entra mai. Eh? Cosa c'è nella padella? Mmm? Che profumino! Fai sancere un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che c'è stato giusto qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che c'è stato giusto qua? Ma che bontà! Ma che c'è stato giusto qua? Ma che c'è stato giusto qua? Ma che bontà! Ma che c'è stato giusto qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che c'è stato giusto qua? Vincere delle altre! Ma! Bobinati la galùa! Ma che cosa sarà mai? Ma che sarà bina qua! Ma perché? Come mai? Perché? In gelaterina non c'entra mai. Eh? Mmm? Che cioccolato! C'è stato giusto! Che c'è stato giusto qua! Chipsy Nose! Grazie per la visione!